complimenti ragazzi complimenti una partita una partita bellissima devo dire che per essere una partita di qualificazioni europei è stata veramente una partita bella poteva finire anche in pareggio un pareggio non sarebbe stato scandaloso perché alla fine la bosnia ha giocato senza paura nel primo tempo abbiamo subito parecchio però devo dire che quest'italia qua ha avuto anche molta come posso dire non tanto non parlando di cuore no per la grinta sono ammessa anche della l'ha messa parecchio e proprio prima per una parentesi la partita di partita di italia ucraina under 20 ci hanno derubato è tolto che si l'ucraina forse meritava perché comunque abbiamo rischiato anche di perdere 2 3 a 0 però quella alla fine quel gol di di quel col che abbiamo fatto che era scamacca non micro come si chiama dopo il vado un fallo veramente veramente inesistente in esiste cioè quello ci ha fatto un gol spettacolare parla la porta stoppa si gira sotto l'incrocio e quello fa il var e va a fischiare il fallo perché mentre stava stoppando il pallone c'è la dimensione dietro e gli ha preso la faccia appena appena all'ultimo minuto poi sarebbe stato spettacolare però il destino ha voluto che dopo aver vinto una partita con la polonia non tanto convincente e col mali avendo rischiato col mali siamo usciti con l'ucraina non era destino che doveva vincere questo mondiale dispiace perché comunque per dei ragazzi così deve essere un'opportunità non da poco anche di farsi vedere su grandi palcos scenici no però doveva andare così purtroppo doveva andare così dispiace perché è stata anche quella una bella partita è stata anche una bella partita sono stati veramente derubate dispiace forse l'ucrania mi dava un po di più però voglio dire dopo che hanno un gol del genere che è spettacolare spettacolare poi solo perché quello cioè certi falli sono un po' esagerati forse magari l'espulsione dell'ucraina la doppia munizione non ci stava tra i coloni col gomito che perché questi gomiti qua vanno sempre un po interpretati sono quei gomiti che uno prova a prendere posizione poi gomiti fatti apposta nel caso del gol di scamarca se non sbaglio che si chiami su quello di giuggete mi sbaglio cioè era spalla la porta la stava stoppando si è girato il lui che dimmi dimmi te che cazzo lui poteva sapere che aveva il difensore con la faccia quando era così che cazzo ne poteva sapere lui aveva la faccia all'altezza del suo braccio come cazzo faceva sto parco il pallone cioè cioè calciatori così devono giocare fatemi capire stoppi e tiri come fai a fare una cosa del genere è innaturale comunque chiuso parentesi under 20 venerdì ci sarà la fine della casa quarto posto per l'italia maggiore sono rimasto invece molto contento in signe che per le altre partite con nazionale ha convinto pochissimo ha fatto una grande partita un gol da cineteca veramente bello veramente bello al volo infatti quando ho visto quel cross lì e tommasci ci prova ma secondo me non nel momento in cui stava tirando l'avevo prevista un più alta però se coordinato bene al volo l'ha messa proprio dove il portiere non ci poteva arrivare velocissima e poi da lì è venuto è venuto poi la grinta dalla squadra non capisco tanto mancini il cambio che ha fatto togliendo quagliarella sono mai portato forse un po un po troppo presto poteva aspettare ancora un pochino che poi diceva bene hanno dato punti di riferimento ha messo bernardeschi un po come falso nuove bernardeschi ha fatto una buona partita ma in alcune cose non mi è piaciuto molto diciamo che in linea generica è stata una partita più che buona da parte di tutti e poi per ratti ha fatto un gol da proprio da tac nell'angolino da biliardo anche la relazione da parte di insignia anche lì anche 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 in quel caso e poi belotti nel momento in cui è entrato è stato comunque anche importante noi anche nelle fasi d'attacco nelle fasi di possesso nel complesso una bella italia i terzini non lo so storgo un po il naso perché è messo un palmiere uno che corre però non lo so a quel qualcosa che forse ma sulla destra quel mancini lì mi sa di nulla desciglio a questo punto mi chiedo ma d'ambrosio non è forse un po meglio mancini mi riferisco a roberto mancini no c'è d'ambrosio non è un fenomeno però secondo me è appena meglio di mancini e di sicuro appena meglio di desciglio quello c'è secondo me poi magari potete anche sbagliarmi forse perché vedo sempre l'intero sono abituato a vedere d'ambrosio sulla destra non lo so però comunque secondo me abbiamo terzini migliore sulla destra sulla destra non abbiamo mai avuto un terzino fisso e una volta zappacosta una volta desciglio una volta abate una volta che cazzo c'era anche aspetta qualche terzino abbiamo messo piccini lì quello di valencia è un po deciso sui terzini destri secondo me caro mancini potresti provare d'ambrosio stai provando tutti io lo tenterei d'ambrosio come terzino comunque per il resto è stata una partita molto dura comunque la bosnia si è fatta valere tanto veramente non è stata una passeggiata questa vittoria se finiva in pareggio non era scandaloso ma se se perdevamo non sarebbe stata una sconfitta meritata quindi una vittoria piuttosto meritata un vittoria piuttosto meritata e zeko ha segnato ragazzi zeko è forte è forte entra avanti forte però comunque diciamo che l'italia ha dimostrato di avere il carattere giusto per per ribaltare il risultato e sono contento poi eravamo in casa non potevo fare altrimenti devo dire che è stata un'italia parecchio trasformata rispetto alla prima tra virgolette italia di mancini che si è vista questa italia è stata un po più convincente a parer mio mi è piaciuto molto di più è stata anche anche a livello diciamo parlando livello neutrale una partita anche divertente da vedere sia da una parte che che dall'altra comunque ragazzi bene così 12 punti punteggio pieno siamo praticamente un passo la qualificazione la prossima con l'armenia se ne parla settembre quindi ci sono già tra fra tre mesi siamo già dimenticati però dicendo con l'armenia dovremmo essere abbastanza tranquilli poi c'è lo scontro diciamo diretto con la finlandia che stasera ha vinto quindi che ha tre punti dietro quindi una volta che non perdico la finlandia in trasferta ci può anche può anche stare un pareggio diciamo comunque ragazzi bene così tanto per giocato anche l'inter primavera un'altra piccola apparenza o meglio ci sono più partite adesso che durante l'anno che è vinto 3 a 0 contro la roma quindi in finale di coppa una coppa al cazzo di campionato primavera contro l'atalanta giocherà venerdì quindi anche lì un'altra partita vincente peccato solo per l'under 20 mi è dispiaciuto un sacco mi è piaciuto un sacco perché dopo un cammino lungo e faticoso perderla così fa girare le palle perché annulli un gol spettacolare da un fallo inesistente lì ti girano veramente le palle comunque almeno abbiamo compensato quello tale maggiore che ha fatto anche una grande vittoria non facile non facile con una bosnia che ha lottato veramente tanto e poi alla fine si è vista che si conservava un po per il pareggio e in realtà poi 2 a 1 meno male una soddisfazione ogni tanto con la nazionale ci sta ragazzi ci vediamo la prossima allora non so quando nei prossimi giorni voi iscrivetevi al canale poi magari vediamo un po se c'è una novità sul calciomercato e poi su una nazionale italiana ci sono anche le nostre ragazze che girano venerdì partite che non riuscirò a vedere purtroppo e l'andre 21 ci sono gli europei andre 21 che giocheranno in casa quindi anche lì ci sarà una bella sarà una bella estate poi la coppa america la coppa d'africa che qualcosina riuscirò a vedere vediamo un po cosa riuscirò a fare quest'estate non ci si annoia anche essendo hanno dispari ma non ci siano quest'estate ragazzi sono dilugato troppo a presto forza azzurri grandi ragazzi una grande prestazione sono davvero contento stasera davvero contento non posso chiedere altro qualche sbavatura c'è stata ma di presente nel complesso arrivati i tre punti non ci si può lamentare assolutamente ciao ragazzi a presto